Rieccoci e ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Palermo dove i controlli effettuati dai carabinieri hanno portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di droga con oltre 7 chili tra hashish e marijuana. I militari dell'arma hanno poi tratto in arresto un uomo, si tratta di un 55enne del posto, ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri della stazione Palermo centro hanno tratto in arresto un 55enne palermitano già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma con il contributo del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia e l'infallibile fiuto del cane Ron hanno effettuato numerosi controlli nel centro abitato. In particolare hanno notato uno strano andirivieni da un vicolo nel quartiere Noce. Individuato il luogo particolarmente frequentato, un appartamento al primo piano di una palazzina, hanno effettuato una perquisizione domiciliare dove l'indagato, non nuovo a fatti analoghi, è stato trovato in possesso di quasi 7,5 chilogrammi tra hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo in attesa dell'udienza di convalida. Lo stupefacente, già parzialmente suddiviso in dosi, che immesso sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 60 mila euro, è stato sequestrato e inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e ponderali. Il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l'arresto e disposto per il 55enne la misura cautelare in carcere in attesa del processo. Lasciamo Palermo, ci spostiamo nella Catanese, prosegue l'azione di contrasto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania ai cosiddetti furti di acqua, ovvero agli allacci abusivi alla rete idrica pubblica. Gli ultimi controlli effettuati dagli uomini dell'arma a Pedara hanno portato all'arresto di un soggetto che da almeno due anni rubava l'acqua. Ma per i dettagli vediamo il servizio. La recrudescenza dei furti di acqua dalle condutture idriche, aggravata dall'attuale periodo di siccità, assume particolare allarme sociale anche in ragione della diminuzione della portata degli impianti con evidenti disagi per la popolazione. Al fine di contenere tale preoccupante fenomeno criminale, il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha avviato una collaborazione con il consorzio acquedotto etneo ACOSET che attraverso il confronto dei flussi di acqua erogata e quella effettivamente contabilizzata è in grado di circoscrivere le aree dove svolgere i controlli. In tale contesto i carabinieri della stazione di Pedara ha acquisito il quadro informativo fornito proprio dal personale ACOSET, grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno avviato una serie di mirati accertamenti volti a individuare i ladri d'acqua, arrestando per furto aggravato un 47enne del posto, un pregiudicato che aveva effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete idrica pubblica. In particolare, in questa occasione, per rifornire di acqua il suo appartamento e anche il garage al piano terra, l'uomo aveva realizzato un collegamento mediante un tubo multistrato della lunghezza di 55 cm che passando dalla colonna montante raggiungeva la rete pubblica. Mediante questo stratagemma, il proprietario dell'immobile riusciva a riempire costantemente una vasca di riserva di ben 1500 litri sistemata proprio nel garage e poi, con un motore di rilancio, faceva in modo che l'acqua risalisse al piano superiore dove alimentava bagni, lavandini, lavatrice e lavastoviglie. Nessuna bolletta per lui dunque, anzi, il bypass comprometteva la pressione dell'acqua riducendo il flusso per le abitazioni degli altri condomini, danneggiando così gli utenti regolari. Il furto andava avanti da almeno due anni e sono in corso i conteggi per poter quantificare l'importo che il trasgressore dovrà risarcire alla società Acoset. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo nel Catanese da Pedara. Ci spostiamo però virtualmente ad Acireale, dove il sindaco Barbagallo ha presentato la consueta relazione annuale sull'espletamento del programma di governo cittadino. Le parole del sindaco che punta ad una Acireale a forte vocazione turistica. Vediamo il servizio. È stata presentata in consiglio comunale la relazione annuale del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo sull'espletamento del programma di governo cittadino. A supporto del rilancio della nostra comunità, ha affermato il sindaco nella premessa alla relazione, abbiamo avviato un'attività di programmazione che tiene conto delle nostre realtà produttive e delle potenzialità di sviluppo della città ancora largamente inespresse. La produzione di reddito e ricchezza in atto ad Acireale è principalmente legata al turismo e alla cultura, all'agricoltura, all'artigianato di qualità e al settore terziario. Mentre per i settori terziario, artigianale e agricolo, l'amministrazione comunale può svolgere solo un'importante azione di stimolo, nel settore del turismo l'intervento pubblico deve risultare fondamentale e determinante per rendere il territorio accogliente e ospitale, alzando la qualità dei servizi. Per questo motivo abbiamo intenzione di potenziare la vocazione della città al turismo di qualità culturale e ambientale, favorendo anche tutte le iniziative collaterali nel campo enogastronomico e delle tradizioni, offrendo maggiori e migliori attrattive, organizzando in maniera compiuta i percorsi, migliorando i collegamenti, la viabilità, accrescendo quantità e qualità dei servizi offerti agli ospiti. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, vale a dire la trasformazione in città turistica, vivibile e accogliente, occorrono sicuramente diversi anni e serve soprattutto la collaborazione del cittadino, una mentalità nuova che valorizzi il bene comune e tutte le bellezze naturali e architettoniche che il territorio ci ha donato. L'attività di programmazione ha tenuto conto del rispetto dei vincoli imposti dalle regole finanziarie vigenti, in un contesto di revisione virtuosa della spesa in cui deve essere data priorità a quei settori che si rivolgono direttamente ai bisogni fondamentali dei cittadini. Voglio evidenziare come l'azione gestionale è stata resa possibile grazie all'enorme mole di lavoro, nonostante un bilancio sano ma ingessato, svolto dai responsabili del settore, dai funzionari, dagli impiegati, dai tecnici, dagli operai e grazie al supporto della Segreteria Generale e al lavoro di tutta la Giunta e di tutti i consiglieri comunali. Il Consiglio sarà ora chiamato a esprimersi sulla relazione nella prossima seduta convocata per l'ultima settimana di agosto. Parliamo adesso di arte, di musica, grande successo a Taormina e Tindari per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che le due tappe si sono svolte proprio nei teatri di Tindari e Taormina, la Turandot e poi l'omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Grande successo di pubblico e di critica per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Avvarcato ai confini regionali, l'eco dell'esito trionfale che nei giorni scorsi ha premiato gli eventi programmati dal Festival nei monumentali teatri a cielo aperto di Tindari e Taormina. Oltre 15.000 presenze, un afflusso senza precedenti nella storia culturale e musicale dei siti archeologici isolani, hanno acclamato due delle sontuose produzioni del Festival promosso dal coro lirico siciliano con la direzione artistica del maestro Francesco Costa. Sold Out e Standing Ovation hanno scandito in entrambi i siti il nuovo allestimento della pucciniana Turandot e l'omaggio a Ennio Morricone, autentico principe del Novecento musicale italiano. Il tributo al compositore dell'Amore e del Sentimento, Giacomo Puccini, in occasione del Centenario della Morte, ha avuto il suo acme in Turandot, inondando le cavee di Taormina e Tindari di magia musicale, intima spiritualità e al tempo stesso possanza vocale grazie alle superbe prestazioni del coro lirico siciliano, dell'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia e dei cantanti coinvolti. Ancora meraviglia con le melodie di Ennio Morricone nella nuova e inedita antologia realizzata dal Festival dei Teatri di Pietra, quale inno alla bellezza e all'incanto. L'omaggio al grande compositore romano ha registrato un vero e proprio tripudio di emozioni. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proseguirà ancora a ritmo serrato per due mesi con oltre 40 spettacoli in tutta la Sicilia, un calendario itinerante in cui si fondono mito e storia, suggestioni visive e sonore. Una vera e propria parata di stelle anima il calendario che si chiuderà il 22 settembre al Teatro Antico di Catania. Caldo e solitudine sono fattori che purtroppo aumentano i ricoveri degli anziani. Questo sottolineano i medici internisti. Vediamo il servizio. Non sono tanto i picchi di calore a incrementare l'afflusso dei pazienti anziani ai servizi di emergenza, ma anche l'aggravarsi di situazioni pregresse, la solitudine e la mancanza di strutture di assistenza sociale nel periodo estivo. Il caldo può aggravare la situazione, spiega Dario Manfellotto, presidente della Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti, che poi aggiunge, penso a quei pazienti con scompenso cardiaco, malattia renale cronica, insufficienza respiratoria o diabete. L'età adulta è poi un elemento che si aggiunge a creare la condizione cosiddetta di fragilità. Un concetto, sottolinea Manfellotto, non soltanto di tipo clinico e anagrafico, ma anche legato alla condizione sociale. Non dimentichiamo che chi vive in condizioni di povertà e disagio è soggetto più facilmente a scompensi e allora in questi casi il ricorso all'ospedale diventa necessario, specie se c'è disidratazione a cui può aggiungersi una condizione di stato confusionale. Ma gli ospedali non chiudono per ferie e questo lo si deve ai sacrifici sostenuti dai medici per coprire la carenza di personale già di per sé cronica. Per chi resta in servizio, secondo un'indagine della Fadoi, il volume di lavoro aumenta del 42,7% dei casi e ciò incide abbastanza sull'assistenza offerta ai cittadini nel 51% dei nosocomi. Tra le problematiche sollevate da Manfellotto pesa anche la solitudine. In certi casi, osserva, il nucleo familiare può venire meno, gli anziani rimasti soli non vengono spronati, molti hanno anche una certa dipendenza a svolgere attività quotidiane tipo fare la spesa, lavarsi, prendere le medicine o ricordarsi di bere. Per Francesco Dentali, presidente della società scientifica Fadoi, l'aumento dei ricoveri di pazienti anziani negli ospedali d'estate va a sommarsi anche con il prolungamento dell'addegenza. L'anziano ricoverato è solo, d'estate ha meno possibilità di ritornare a domicilio, spiega, anche perché i servizi di sostegno sociale nelle città sono meno presenti. Questo per noi significa un rallentamento nella possibilità di dimettere certi pazienti. Purtroppo, però, l'aumento dei giorni di ricovero è associato anche a un aumentato tasso di complicanze, conclude Dentali. Dieta delle vacanze. Vediamo cosa mangiare e non mangiare e come mangiare durante le ferie per salvare l'intestino. Disturbi di natura infettiva, batterica o virale. Sono alcuni dei problemi a cui è facile incorrere durante le vacanze a seguito di una dieta scorretta, o anche, se all'estero, assunzione di acqua e alimenti privi di affidabili controlli sanitari. Lo rivela l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri. L'introduzione di cibi non abituali può indurre una profonda variazione del microbiota, spiega Gloria Mumolo, gastroenterologa presso l'azienda ospedaliero universitaria Pisana e membro dell'Aigo. Alimenti ricchi di substrati fermentabili e non assorbibili, come ad esempio pizza, pane e latticini freschi, soprattutto se consumati in abbondanza, così come le bevande gasate, aumentano il meteorismo. Anche la riduzione di fibre può indurre o aggravare la stipsi, mentre la diarrea, oltre che da batteri e virus, può essere causata da molteplici fattori, tra cui le drastiche variazioni di temperatura tra un ambiente esterno molto caldo e ambienti interni climatizzati, non ultima l'assunzione di bevande molto fredde. Alla cattiva digestione, che spesso affligge i vacanzieri, spesso conseguenza di pasti particolarmente abbondanti e grassi, soprattutto se consumati in fretta, può aggiungersi anche il reflusso, che rischia di essere indotto da un eccesso di alimenti come cioccolato, menta, cibi acidi, piccanti o speziati, cibi grassi e caffè. Per non incorrere in questi errori, i gastroenterologi consigliano di rispettare l'orario abituale del pasto per mantenere stabili i valori glicemici, evitare il carico di carboidrati e di saltare il pasto in previsione di un successivo pasto abbondante. In caso di pranzo al buffet, di solito pieno di una varietà di alimenti elaborati o processati, limitare la quantità e il numero dei cibi prelevati, evitare o almeno limitare l'assunzione di alcolici e alterazioni eccessive del ritmo sonno-sveglia, che aumenta lo stress dell'organismo e riduce il controllo glicemico. È inoltre accertato che le ore di veglia forzata favoriscono il consumo di cibi ricchi di grassi e zuccheri. Il monitoraggio regolare del peso corporeo rimane una strategia preventiva per l'aumento di peso non controllato. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS